E' stata firmata dal sindaco di Biancavilla, Antonio Bonanno, un'ordinanza che impone l'alternanza mattina-pomeriggio tra gli istituti Bruno e Sturzo a partire dal prossimo 4 marzo, così come stabilito dagli accordi sottoscritti dai dirigenti scolastici in un vertice avvenuto ad inizio gennaio. Negli ultimi mesi dell'anno scolastico, marzo, aprile, maggio e di pochi giorni di giugno, le lezioni al mattino nella sede dell'Istituto Comprensivo Bruno in Viale dei Fiori verranno svolte dagli studenti dell'Asturzo, mentre gli alunni dell'Abruno frequenteranno al pomeriggio. L'Asturzo è ospitata nel plesso dell'Abruno a causa dell'inagibilità del plesso di via Cristoforo Colombo provocata dal terremoto del 6 ottobre 2018. L'ordinanza supera un momento di stasi provocato dalle delibere dei consigli di istituto delle due scuole. L'Asturzo aveva chiesto l'anticipo della turnazione a febbraio, mentre l'Abruno aveva stabilito la divisione della propria scuola accordandone una parte all'Asturzo, che avrebbe così potuto far alternare i propri studenti nei doppi turni. In una nota il sindaco Bonanno scrive «Siamo costretti a prendere atto che il verbale sottoscritto dalle dirigenti scolastiche suggerito dagli organi sovracomunali è stato del tutto disatteso. Nemmeno l'intervento del provveditore è servito a dirimere questo scontro inaccettabile. Nessuno dei due istituti ha, alla fine, deliberato a proposito di una turnazione che partisse dal prossimo 4 marzo, così come era stato concordato. Ho firmato, prosegue Bonanno, un'ordinanza che impone la turnazione tra gli istituti a partire dal prossimo 4 marzo. Nel frattempo, la garanzia del finanziamento per ricostruire le scuole ci vede lavorare duramente per mandare in gara i progetti, un passaggio imprescindibile dal quale dipende il regolare inizio del prossimo anno scolastico, nel quale vogliamo che tutto torni alla normalità di sempre.